Buongiorno a tutti ragazzi, parto con una domanda che è credo abbastanza interessante perché io mai mi sarei aspettato di vedere questa cosa nella mia vita, ma che effetto vi fa sapere che Beppe Marotta sarà o è magari in questi minuti mentre registro il video il nuovo presidente dell'Inter? questa cosa è per me veramente sconvolgente, un dirigente, un uomo, una persona che lato Juve ha creato veramente qualcosa di magico insieme ad Antonio Conte, sarà il presidente dell'Inter, Antonio Conte diventerà invece l'allenatore del Napoli qua mi sembra che negli ultimi 12-13 anni da quando Marotta sceglie Conte ad oggi sono successe davvero tante cose in cui abbiamo visto degli alleati diventare nemici e dei nemici diventare alleati perché lo stesso Allegri che era al Milan non era mai stato particolarmente dolce nei confronti della Juve dopo il gol di Montari abbiamo visto Sarri sulla nostra panchina, vedremo Tiago Motta che è stato un altro di quelli che è sempre stato dalla parte dei villain cattivi per quanto riguarda la Juve quindi insomma il calcio non smette mai di stupirci e queste cose sono molto molto interessanti, molto molto simpatiche da pensare col senno di poi fatemi sapere che cosa ne pensate e fatemi sapere anche cosa ne pensate di questa risoluzione contrattuale che c'è stata ieri sera tra Lega e la Juventus perché è uscito questo comunicato, due righe veramente in croce in cui effettivamente la Juventus arriva poi a ringraziare Allegri quindi quel comunicato come vi avevo spiegato era stato duro per necessità perché si pensava di andare allo scontro anche in tribunale alla fine al tribunale non ci si arriva, Allegri non è più vincolato legalmente alla Juventus, è libero di firmare per qualsiasi squadra in questo momento che possa essere una squadra di Serie A, una squadra estera, una squadra magari anche dell'Arabia Saudita che l'anno scorso si è dimostrata interessata sembra che Allegri abbia volontà nel proseguire in Serie A però mai escludere nemmeno queste cose qui si parla di una spesa da parte della Juve di circa 4-5 milioni lordi di buona uscita nei confronti di Allegri e del suo staff ora aspettiamo le comunicazioni ufficiali perché poi queste cifre verranno messe a bilancio le scopriremo soltanto in occasione dell'assemblea dei soci immagino però dovrebbero essere queste cifre qua e rispetto ai 20 milioni di cui si parlava in precedenza è un bellissimo risparmio per le casse della Juve che possano finire sia su Tiago Motta sia sul mercato quindi questa è una buona, anzi ottima notizia per la Juventus, credo anche buona, ottima notizia per Allegri che alla fine non si è beccato il licenziamento per giusta causa bene o male tutti contenti, tutti sereni, tutti tranquilli, non lo so la vicenda però si è conclusa in questo modo qui e ora la Juve può finalmente aprire una nuova pagina anche perché si è parlato tanto della possibilità di avere l'annuncio di Tiago Motta proprio nella giornata di martedì martedì è oggi, vediamo se si muoverà qualcosa oppure no dopo aver chiuso un capitolo lungo e importante della storia della Juve e intanto però Giuntoli non sta mica fermo, ha la formica rossa che gli corre su per la schiena che gli permette di muoversi sempre perché si sta parlando di uno scambio fonte Gianluca Di Marzio tra McKennie e Douglas Lewis ora io non conosco Douglas Lewis, sono dovuto andare un po' a documentarvi vi leggo quello che ho trovato su di lui su internet se poi la trattativa andrà avanti andrò sicuramente a rapprofondire questo discorso e portarvi dei contenuti veramente di analisi di questo profilo perché è un centrocampista brasiliano, classe 1998 gioca in questo momento all'Aston Villa è un incursore ma può giocare anche come mediano quindi centrocampista difensivo mi è saltato subito all'occhio un dato importante e cioè 35 partite in Premier League quest'anno e 9 gol 10 in totale quindi un centrocampista che è andato in doppia cifra ma 9 gol in Premier League vuol dire essere veramente impattante e ha un contratto in scadenza nel 2026 se McKennie ha un contratto in scadenza nel 2025 e Douglas Lewis nel 2026 probabilmente Juventus e Aston Villa stanno ragionando su scambiarsi questi giocatori poi non lo so, magari può esserci un piccolo una piccola cifra di denaro un piccolo conguaglio economico a favore dell'Aston Villa perché è un anno più giovane, è un anno in più di contratto non ho idea, vediamo come si sviluppa però sembra una pista molto molto interessante e la Juve è soprattutto giunto lì si dimostra abile ad andare a lavorare anche su profili non soltanto all'interno dei confini italiani sappiamo che ci sarà un mercato interno importante c'è sempre il nome di Cobmeiners, il nome di Calafiori il nome di Gregorio eccetera eccetera però non si esclude anche una pista estera così come non si escludono piste estere per Wojtek-Scesni questa invece è una notizia che esce da Alfredo Pedullà che dice che Scesni in questo momento vorrebbe rimanere la Juve ha la volontà di rimanere la Juve ma anche compreso che non c'è proprio tutta questa fiducia da parte della Juve nei suoi confronti che vorrebbe cercare di cederlo per andare ad alleggerirsi a livello economico un bilancio molto impattante e quindi Scesni nelle prossime ore riceverà due offerte che dovrà valutare attentamente una ancora dalla Premier League quindi potrebbe rincontrare McKennie da avversario o magari da compagno chissà se non sia proprio l'Aston Villa e una dall'Arabia ci sono sempre quelle squadre saudite che iniziano ad essere interessati a questi nomi importanti nomi di giocatori che hanno una carriera un palmarès di un certo livello e sicuramente possono offrire anche valutazioni stipendi, ingaggi veramente molto elevate vedremo quale sarà il futuro di Scesni però la Juve inizia a muoversi anche su questi giocatori scadenza 25 per non farsi trovare impreparata e scadenza 25 ce n'è un altro abbiamo discusso ieri vi ho spiegato che secondo me Federico Chiesa non sarà un giocatore della Juventus l'anno prossimo si dice che Chiesa voglia rimanere alla Juve penso che sia bene o male lo stesso discorso che si fa con Scesni Chiesa e Scesni vorrebbero rimanere alla Juve non è detto che la Juve sia disponibile nel trattenerli entrambi o magari nessuno dei due però la Juventus valuta a Chiesa 40 milioni di euro che è comunque una cifra molto elevata per un giocatore che ha scadenza nel 2025 io non so se ci saranno delle squadre che arriveranno ad offrire queste cifre ieri vi parlavo secondo me di possibilità legate al mercato interno quindi alla Serie A Roma e Napoli su tutte ecco un piccolo pezzettino che è venuto fuori nelle ultime ore Antonio Conte sembra volere Chiesa al Napoli con molta insistenza e chissà che non possa essere una delle prime richieste fatte dell'Aurentis della Serie sì d'accordo vendiamo Osimen Egvara Schia faccio un esempio però poi quei soldi quei milioni vanno reinvestiti su colpi sui giocatori su profili che piacciono a me e chissà che l'attacco del Napoli il prossimo anno non possa essere Lukaku insieme a Federico Chiesa sarebbe molto molto affine secondo me alle caratteristiche alle richieste di Conte nel 3-5-2 di Conte Chiesa e Lukaku potrebbero essere due giocatori importanti anche perché Chiesa andrebbe ad allargarsi tanto secondo me e chissà che non possa poi aggiungersi anche un altro giocatore che dal centrocampo si alza un po' di più per andare a formare una sorta di tridente alle spalle di Lukaku anzi di tridente con Lukaku due giocatori alle spalle di Lukaku è proprio di tridente se vogliamo tra virgolette dobbiamo parlare anche questa sera in ottica di Italia-Turchia si gioca a Bologna si gioca al Dallara lo stadio di Tiago Motta lo stadio di Calafiori ma anche lo stadio di Ursolini che questa sera dovrebbe partire titolare in questa sfida alla nazionale e Ildiz insieme a Montella che sfida l'Italia di Spalletti e tanti giocatori della Juventus interessante secondo me la probabile formazione poi vedremo se sarà confermata perché si parla di 4-2-3-1 con Vicario in porta Di Lorenzo Mancini Bastoni e Di Marco che vanno a formare questa linea 4 che in realtà diventa una linea 5 staccandosi Di Marco andando a portarsi sulla linea dei centrocampisti con proprio il nostro Orsolini nostro nel senso che avevamo discusso prima che andrebbe a formare l'esterno di destra con Di Lorenzo che andrebbe a fare invece il braccetto del terzo centrale di difesa della difesa 3 andando a fare l'esterno al pari di Di Marco con Giorginio e Cristante in mediana Pellegrini e Chiesa che andrebbero a formare appunto quei due giocatori alle spalle di Reteghi quindi una sorta di 4-2-3-1 che però in fase di impostazione diventa un 3-4-2-1 con appunto Chiesa e Pellegrini sulla tre quarti e Orsolini e Di Marco sugli esterni è una soluzione interessante perché credo che il dibattito grosso sulla nazionale sia proprio questo e cioè si giocherà con la difesa 3 o con la difesa 4 ecco io non credo che Spalletti sia un grandissimo amante della difesa 3 deve fare un po' di necessità virtù perché ha tanti giocatori all'interno della nazionale italiana che giocano con la difesa 3 però credo che sarà una nazionale molto camaleontica e quindi si partirà per quanto mi riguarda davvero con una struttura di 4-2-3-1 con un esterno che farà un po' più un sacrificio per cercare di essere tutta fascia io credo che questa sia la soluzione migliore dal punto di vista tattico per questa nazionale senza ombra di dubbio la soluzione migliore bisogna capire se Orsolini sarà in grado di fare quel tipo di lavoro in quella zona di campo perché mi sembra comunque un giocatore abbastanza offensivo che quel lavoro lì non lo fa forse nel migliore dei modi perché va a perdere anche tanto il suo potenziale Orsolini un giocatore a cui piace tantissimo partire da destra e poi accentrarsi a far partire o un cross o un tiro in porta a girare con il suo mancino molto elegante però vediamo se può essere anche un po' più sacrificato all'interno della nazionale per cercare di essere quasi un equilibratore dal punto di vista tattico per permettere a Spalletti di schierare il suo modulo ma anche i calciatori tenerli all'interno della loro comfort zone servano sempre a quei giocatori che un po' vanno ad immolarsi per la patria per far tenere in piedi tutta una struttura tattica quindi ragazzi queste sono un po' le notizie che volevo discutere oggi insieme a voi sono tante cose di cui abbiamo parlato non è un video in cui andiamo su un unico focus perché sono successe veramente tante cose tra Beppe Marotta Massimiliano Allegri stasera la nazionale e tante indiscrezioni di mercato quindi tanti commenti sono attesi qui sotto e io vi ricordo che oggi è martedì e il martedì al pomeriggio c'è sempre la Q&A quindi ci vediamo anche in live su YouTube ciao a tutti ragazzi